Ecco, continueremo a seguire l'intervista ad Agnes Callibata, l'inviata speciale delle Nazioni Inter sui sistemi alimentari, ma intanto io vi presento i nostri ospiti, Maurizio Martina, vice direttore generale FAO e Arianna Giulio Dori, segretaria generale Organizzazione Mondiale degli Agricoltori. Ecco, Martina, un primo bilancio, sono stati raggiunti in questi tre giorni gli obiettivi del Vertice? Grazie.